Follia urbana, Vicenza, via Torino. Sono le nove e mezza di sera quando un uomo sta urlando e prendendo a calci una macchina. All'interno, rifugiata nell'abitacolo, una donna e sul sedile posteriore un bambino. Qualcuno chiama il 113, due pattuglie delle volanti della questura piombano sul posto e trovano l'uomo, un tunisino quarantenne, su tutte le furie. Alla vista degli agenti, però, invece di calmarsi, continua con foga a forzare il montante della portiera per infilarsi nella macchina dove la donna e il piccolo figlio sono rifugiati. Gli agenti provano a fermarlo, ma l'immigrato rivolge ai poliziotti minacce di morte, nonostante i ripetuti richiami. Cosa potrebbe succedere se effettivamente quell'uomo riuscisse a entrare in macchina? È furibondo, non demorde. Temendo per l'incolumità della donna e del piccolo, gli agenti a quel punto si sentono costretti a procedere con l'estrazione del taser in dotazione da 18 giorni, dal 23 maggio. Il protocollo viene seguito con grande attenzione dai poliziotti che puntano verso lo straniero azionando l'arco voltaico. Viene intimato più volte l'aggressore di fermarsi, ma senza risultati. A quel punto il capo pattuglia si vede costretto a utilizzare il taser per la prima volta a Vicenza, esplodendo un colpo nella direzione del nordafricano. I dardi elettrici che ne fuoriescono inibiscono all'istante i suoi movimenti e cadendo a terra, senza possibilità di muoversi e di reagire, viene ammanettato. Portato in questura, non pago di quanto era successo fino a quel momento, il magrebino ha cominciato a inveire anche nei confronti degli operatori sanitari del 118, con minacce e sputi. L'uomo, 42 anni, regolare in Italia, viene arrestato per minacce e resistenza pubblico ufficiale e per minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna che formalizza denuncia penale. Al termine del fotosegnalamento, il tunisino è stato portato nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il taser, utilizzato per la prima volta in provincia di Vicenza, è stato efficace.